Guardate questi colpi di rosso e poi questi colpetti di bianco, questi sono originali, sono belli, è bello, è materico, poi vedi lo ha fatto quasi a fresco, stende il bianco e poi gli passa subito con il rosso. Se ho dei pentimenti rispetto a questo lavoro ce l'ho, come dicevo Deppe Povassoli con la burocrazia, mi dà i nervi la burocrazia, non lo sopporto, però sono convinto che se la gente venisse pagata forse avrebbe anche voglia di lavorare un po' di più. Comodo qui, tutto comincio a poco. Mia sorella ha sposato questo Pietro Lorenzelli, figlio di un antiquario, però lui diventa gallerista, comincia a fare la collezione di Natura Morte, poi va bene, muore numismatico, muore 52 anni. Con lui ho fatto tantissime mostre di Natura Morte, gessuti peruviani, cofanetti, pissidi, contenitori e niente, ho da andare alla scuola galleria mia perché non ho mai sopportato le restrizioni e finito le mesi. Sono andato a lavorare e il vecchio Lorenzelli mi manda da questo Marchig, che è questo restauratore, lui è un italiano, però lavora a Ginevra, faccio fischio. Sono andato a questo, qui mi trovo avanti in quadro di Danfranco, un moriglio, un Decaderalia, lui lo stigli, sto che. E sono rimasto fino all'83 quando lui è morto. Vedi questi segni circolari, questi segni delle pallottole dei francesi. È arrivato il pallettone di piombo, l'ho trovato conficcato in un vecchio telaio. Queste parti sono già state restaurate e completate. Qui è stato fatto un primo abbozzo di restauro. Ecco, in alcuni punti siamo andati a fondo, come vedi questa parte, è abbastanza arrivata a un restauro finito. Prima c'è lo stucco, la prima stesura di colore, la prima stesura di velatura. Piano piano lo si porta con l'imare, con l'originale. Oggi riesci a controllare le puliture perché qualcuno ci è venuto incontro con i materiali, per esempio. Non sono indifferenti. Una volta alcol a ragia, alcol, l'acetone, diluente e via andare, basta. Scuole. Avessi potuto frequentarle, forse sarebbe diverso oggi. Perché siamo sempre stati un po' penalizzati noi che veniamo dalla bottega. Questa è Bulla Regia, questa qui è Pergamo, Milleto, Tunisia, Guggenheim, che è dalmeno infotografabile, questo mio ragazzo, mio convinto, fai me la foto, ma fai dei törtli. O di là una scotoletta che era andata con l'avorio, perché ho dovuto inserire, fare un insetto in avorio, perché sono tutte cose che ho maturato, ma non sono diventate la mia professione. Sono andato a curiosare che ho uno studio mio e dal 74. Se lo studio lo portasse avanti lei, sarei l'uomo più felice del mondo. Infatti sto facendo il possibile e l'impossibile che vada avanti lei. Bisogna farsi da parte a un certo punto e io lasciare lo spazio. Io non posso permettermi di smettere di lavorare, perché prendo la pensione dal novembre dell'anno scorso. Non so cosa lascerò, ma almeno un po' di buona volontà. Ci non posso che pensare bene, perché se no è finita. No. 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 No.